Manuele D'Elsi, atleta paralimpico, protagonista dell'evento di Sitting Volley che ci sarà in Molise, vestirai la maglia azzurra, quali le sensazioni? Siamo molto carichi sia io che anche i miei compagni, abbiamo dall'inizio di settembre iniziato subito a lavorare tosto e vogliamo mettere ora in campo tutto quello su cui abbiamo lavorato e quindi su quello con cui ci siamo preparati per affrontare al meglio questa manifestazione importante. Molisano, protagonista anche con la maglia del Nola per quanto riguarda la squadra di club, testimonianza che per chi vuole arrivare e raggiungere grandi obiettivi non esiste disabilità. Assolutamente sì, abbiamo vinto due scudetti con il Nola e abbiamo una grande squadra dove ogni anno puntiamo sempre per dar meglio e soprattutto per far conoscere ancora di più il nostro sport, proprio dove mettiamo insieme i disabili, insieme alle persone normodotate quindi questo ci permette di far avvicinare sempre più persone e sensibilizzare ancora di più il mondo paralimpico. Silver National League, evento di grande rilevanza a carattere internazionale che vi vedrà appunto protagonisti con l'Italia dove si potrà arrivare secondo te. Giocheremo con squadre sia della nostra portata ma anche con grandi squadre. Ci possiamo giocare tranquillamente tutto, le capacità le abbiamo e manca solo dimostrarle. Grazie. 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 Grazie a tutti